io non mi sono morto mi stavo mettendo meglio come potete capire è bellissimo è bellissima aspetta Roby vieni Morena non si prende un cavolo però vai Morena ah si è tranquilla uno due tre potete accattarvi adesso so che siete comodi lì seduti no 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 stavo filmando voi però facciamogli venire l'invidia a quelli che non son venuti è troppo bella capito è una roccia di marco